solo nel volifere ragazzi buongiorno oggi stiamo zona larino diciamo con questa bestia qua che vedete che letteralmente è una bestia è stata trattata da Ezio Campoli è già una garanzia veramente una garanzia è stata fatta pressione revisione, scarico revisione generale la macchina è originale ma è stata orata una controllata generale su tutto diciamo leggermente carburata come si deve è fatto diciamo lo scarico per il resto la macchina è tutta originale ma vola già di su 120 cavalli tutta all'alluminio sta a posto io posso confermare non mi sono mai eccitato così tutta dallo scarico certe fucilate da guerra specialmente il rilascio ma quando prende attacca la marcia sale dovunque è qualcosa di incredibile nonostante la sua età ah questa quando c'ha un è del 72 è del 72 ce l'ha ha il suo ma già come la vedete queste ci andavano a correre quindi motore della corsa su una macchina stradale è il top come morire è bene andiamo a vederlo un po' da vicino come sempre hf originale non è imitazione ragazzi tutto originale qua sentiamo un contrabbasso che sta suonando mamma mia che porno e questo era era il porno degli anni 70 questa le alfa però questa guarda che cana da fucile che c'ha dietro mamma mia che è sì è che bello che è bello portiera tutto a frutto alluminio macchina leggerissima ovviamente scritto la scritta fulvia caratteristica sedili in pelle semi pelle sì 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 sedili semi pelle o pelle 950 kg di macchina ma ragazzi no io sinceramente avete un po' di soldi comprate questa non è d'accordo con questa non sicuramente ad ogni marcia non vi non vi stancate perché volete sempre di più e questa vi dà di più sempre e comunque veramente veramente il top il top del top stamattina puoi fare il top? sì vediamo l'anima pulsante di questo di questa HF wow allora ragazzi qua c'è da piangere ma in senso buono allora il blocco ah bene no è giallo originale giallo giallo originale del 72 che linea le alta abbiamo il doppio carburatore 45 Sonex con le trombette identiche alle liglie identiche però è troppo però è troppo tiriamo qualche giusto qualche concilata di troppo e non siamo nemmeno al limite siamo sui 4.000 giri su 7 mi rubo ahahahah 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 Poi la facciamo provare anche a lui Al presidente Ma veramente fai E vediamo che dici Oddio Oddio No vabbè ma così mi fai camminare nervoso Vediamo che riesco a fare Allora cosa ne pensi alla guida di questa Lancia Fulvia 1000 SHF E' porno No è troppo bella Troppo troppo bella E' uno spettacolo No vabbè La mia prima macchina da corsa che vido E' felice E' un'emozione assurda Veramente assurda Ragazzi io vi ricordo di iscrivervi al canale Di seguire Giovanni su Instagram E anche sul suo canale YouTube Giovanni Ricci97 E anche su Instagram Giovanni Ricci E ne vedete di belle Se c'era me ne vedete di belle Ne vedete tante di belle Che i mezzi qua ce ne sono E i video ci sono E i video ci sono